Ce l'ho fatta dopo 3 Pokémon Hello! Hello! Siamo pronti al raduno Pokémon di oggi Sì Stiamo andando E abbiamo appena catturato un Eevee e un... E niente Come niente? Un Butterfree 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 Ora no Non funziona quando arriva la telecamera Il problema grave qui è che abbiamo quasi finito le Pokéball Cioè io ho preso tutti i Poké... Stava morendo mia sorella perché si è inciampata e... E quindi stavo... Non chiede che mi fa male, che ho una storia Ad ogni modo possiamo vedere che ho 44 Pokéball Lei invece ne ha 2 Non ne ho più 2, ora ne ho 30 Ne ha... Ne ha 30? E come hai fatto a farne 30? Eh... Magia E sarete di ribello? Sì Quindi sì eh Una cosa che abbiamo capito è che... Girare per il centro è uguale a rifarsi tutte le Pokéball E poi anche vedere i Whiddle 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 Eri ero circondato da dei ratti Cioè... Ero circondato Ce l'avevo ovunque a destra, a sinistra, avanti e indietro Il ritrovo per la precisione in questo punto Dove ci sono le cose che girano Dove ci sono le mille mila esche Qua... Qua... Allora... Oggi Alessandra ha scelto di evolvere tutti i suoi Pokémon attivando Fortu Nuovo E questo è il modo in cui lo userai? Sì No... Sei sicura? Come hai fatto tu? Sì, in effetti ne usate due Andiamo qua! Foto! Foto! Foto con tutti Foto con tutti Sì, ciao! Super foto! Anche con la bici! Anche con la bici! Ci voglio essere! Come ti voglio essere? Oh mio! Blockiamo tutte le macchine! Blockiamo tutte le macchine! Mai non ti chiamo scrivendo! Eh ciao! Poi non ti ho viste e ci investi questa è una notizia alcazzata sembra il caso di pensare a queste cose abbiamo fatto la foto ci stavano investendo un saluto Jackie ciao a tutti belli e brutti e in bici un saluto alla nostra fotografa Erika è un voto di esperienza abbiamo attivato un Forte Nuovo c'è un Charmander al parco un Charmander è molto saluto figo ci stiamo spostando in Piazza della Resistenza e anche oh caspita dei ratti oggi c'è Charmander Charmander no avevo lo zoom avevo lo zoom al massimo quindi probabilmente ho registrato uno schifo dicevo stiamo andando al parco della Resistenza per trovare un Charmander e un Ivi c'è un Ivi dietro uova 5 su 5 5 su 5 e non si schiudono e non si schiudono e non si schiudono e volevo ma non è niente mi si schiudono un Plokmon trasparente era Drowsy mi è uscito trasparente non entra siamo fuori dal server loading loading un corno non funziona via il telefono lui dice via il telefono però non lo so sono che ore sono le 23 3.01 e i server non vanno inoltre i server a me non vanno vedi anche a lui non vanno anche a me lagga però te lagga perché vuol telefono del cazzo no no è proprio perché retry ma tanto ritrago ma non succede assolutamente niente stiamo andando a convincere le tipi che hanno attivato l'esca in piazza qui ma che non sono con noi al parco della Resistenza quindi li cominceremo a venire un messaggio funziona 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 e troveremo in questo poca stop un nuovo nidoran femmina wascout e dopo mezz'ora l'hai preso ma ce l'avevo già scusa e come chiusura abbiamo trovato un cadabra abracadabra sì l'evoluzione di abra giusto lì in fondo l'abbiamo trovato è una megaball presa al prossimo raduno e fra gli oscì chiude grazie a tutti I'm in the city